Uno è l'itinerario di chi vuole seguire la proposta dell'autrice e di intervallare brani di ricostruzione, non di fantasia, ma con parti di libero arbitrio a testi e documenti. Uno è quello di chi vuole accedere solo al mondo della fantasia e del romanzo, l'altro è di chi vuole accedere solo al documento storico. Questa triplice lettura è agevolissima perché siccome col vecchio carattere dell'Aulivetti, lettera 22, si può andare al documento, col tipografico, non so se sia un bodone o un taiso, si può andare alla parte inventata e seguendo i due caratteri distintamente si può percorrere il racconto intero, che è molto ben calibrato e che non dà brusche interruzioni fra una parte di invenzione o ricostruzione e la parte documentaria. È veramente un modo piacevole, il titolo anche la dice lunga sull'understatement e sulla verità dell'impostazione perché il contraluce, lo sanno le fotografie, è un modo in cui si vede solo il profilo e non si ritraeva altro. Dunque non c'è la pretesa di dare a tutto tondo burri, ma c'è di darle un profilo, uno tra i tanti mille profili possibili. Io chiudo questa brevissima nota di presentazione del volume e non di burri, lo sottolineo, con una citazione soltanto. Tra le tante cose belle, tra le tante belle pagine di questo libro, mi azzardo ad affidarmi alla memoria nel citarvi solo due versi di Cesare Brandi riportati nel libro. Sono due versi riferiti al giorno in cui burri si innamora, diciamo, del suo amore alternativo a quello coniugale. E Brandi scrive su un tovagliolo, su un fazzoletto, su un pezzo di carta. È una serata gioiosa e patetica, pur se la cosa sembra antitetica. Grazie.